Questa sera andremo a mettere un dispositivo GPS sull'adulto di Berta Maggiore. Questo dispositivo serve ad andare a vedere dove questi animali vanno a mangiare e questo è fondamentale per capire quali sono le zone di mare da proteggere. Questo dispositivo viene messo in una guaina protettiva impermeabile e adesso l'andremo a mettere sull'individuo cogliato. Il GPS che andiamo a mettere è molto leggero, infatti è pari all'incirca al 3% del peso dell'animale. Diciamo paragonabile a se noi portassimo un piccolo zaino e questo non gli dà più fastidio per le sue normali attività. Il dispositivo viene fissato con del nastro apposito. La manipolazione dell'animale dura solamente pochi minuti, il tempo necessario per fissare il GPS. Vediamo che occupa solamente una piccola area dell'animale. Ora l'andiamo a liberare. Adesso l'andiamo a liberare. Dopo aver messo il GPS liberiamo la Bertha nel suo nido dove è stata presa. al l'anima e il portassimo viaggio Grazie.